Sequestri di beni e di ordinanze di custodia cautelare sono gli sviluppi dell'operazione Gota 4 che ha portato gli uomini del rossa a dare esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia. I provvedimenti costituiscono la fase finale dell'inchiesta Gota 4 che a luglio aveva consentito l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 36 indagati per associazioni di tipo mafioso, estorsioni, omicidio, rapina, detenzione di armi ed altri reati. Adesso le misure cautelari completano le risultanze investigative che hanno mostrato il diretto coinvolgimento delle cosche barcellonesi di Salvatore Treccarichi e del padre Giuseppe Antonio. Inoltre le misure patrimoniali emesse nei confronti di Francesco Liberti, Antonino Mazzeo, Detto Piritta e i Treccarichi sono state emesse per la forte sproporzione tra l'ingente patrimonio e i modesti redditi dichiarati dagli indagati. Gli accertamenti hanno quindi consentito di individuare sei imprese e il relativo patrimonio aziendale, diversi appezzamenti di terreno, numerosi autoveicoli e motoveicoli, due imbarcazioni e diversi conti correnti bancari per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro. Grazie all'attività tecnica e a una minuziosa analisi patrimoniale è stato possibile individuare nella veste di Dominus Giuseppe Antonio Treccarichi all'interno dell'omonime impresa individuale intestata al figlio con sede legale a pace del mela creata al fine di sottrarne il complesso aziendale all'effettuale effetto di una misura di prevenzione patrimoniale, proprio nel momento in cui era divenuta nota la collaborazione di Carmelo Bisognano. Per lo stesso motivo erano state acquisite anche parte delle quote relative al MGM-SRL di proprietà di Alfio Buemi. I carabinieri del Rosso hanno sequestrato le imprese Nuova Fab e New Simet, entrambe con sede legale a Barcellona. Un immobile ubicato in quel comune, nove veicoli e diversi conti correnti. Antonino Mazzeo ha subito invece il sequestro di un'azienda avente sede a Termevigliatore, la Transport Line Società Cooperativa, un immobile, tre veicoli, tre quali una Ferrari 360 Modena e due imbarcazioni da diporto, beni che gli indagati si stavano prodigando a vendere o nascondere.